Il dottor Antonio De Vito, il direttore generale di Puglia Sviluppo, oggi ha partecipato al convegno organizzato a Bieste da Confindustria sul turismo. Nel suo intervento lei ha spiegato quali sono i limiti della partecipazione della provincia di Foggia alle possibilità e alle risorse che sono a disposizione? Sì, noi abbiamo in questa programmazione 14-20 attivato come regione, quindi come organismo intermedio come Puglia Sviluppo, due strumenti che sono focalizzati sul turismo. Uno un po' più smart che è il titolo 2 turismo, il capo 6, che consente di agevolare investimenti da 30.000 fino a 4 milioni di euro. Poi abbiamo invece uno strumento più strutturato che è lo strumento PIA, che sta per il pacchetto integrato di agevolazioni, che finanzia investimenti di portata un po' più elevata, fino a 20 milioni per le piccole imprese, fino a 30 per le medie, fino addirittura a 40 per le grandi imprese. Su questa programmazione, a distanza di 4 anni di operatività, perché la nostra è una strumentazione che è aperta, è strutturale, quindi si valuta la singola domanda, quindi è una procedura sportello. Sul titolo 2 abbiamo ricevuto ad oggi 400 milioni di euro di investimenti, dei quali circa 51 milioni sono stati presentati in provincia di Foggia. Sul PIA siamo a 300 milioni di euro e nessuna istanza è stata presentata in provincia di Foggia. Quindi gli investimenti turistici che abbiamo ricevuto sono 700 milioni, il 7% solo e esclusivamente dalla provincia di Foggia. A cosa serviranno i 50 milioni? Allora, i 50 milioni che in questo momento sono stati presentati come istanze riguardano una delle 5 tipologie di investimento, che è il titolo 2 agevola, ed è quello dell'ammodernamento delle strutture turistiche esistenti. Quindi l'intervento è quello che favorisce l'innalzamento degli standard qualitativi e quindi le istanze si incentrano su questa misura. Non abbiamo invece interventi che riguardano la ristrutturazione o degli edifici rurali o del patrimonio storico e attività tonico presente sul territorio provinciale. Un dato interessante è che sui 51 milioni di euro presentati a livello provinciale, quasi il 72%, quindi quasi 37 milioni di euro, si concentrano su quattro comuni che sono San Giovanni Rotondo, Viesti, Mattinata e Foggia. Ecco, dal vostro osservatorio da cosa dipende questa partecipazione così risicata? E questo è una valutazione che bisognerebbe eventualmente porre in essere con i corpi intermedi e quindi con le associazioni di categoria, fare forse una riflessione. Io non penso, voglio dire, che ciò sia dovuto solo ed esclusivamente a una disinformazione su questi strumenti. Se ciò è vero, possiamo sicuramente cercare di recuperare almeno in quest'ultimo anno di operatività dei nostri strumenti che sicuramente andranno a concludersi entro il dicembre 2019. Se ci sono degli altri elementi, forse sono elementi che vanno un attimino attenzionati, vanno un attimino analizzati, vanno un attimino studiati in maniera tale da cercare di recuperare quest'ulteriore anno e mezzo di operatività ma capire anche come la prossima programmazione 21-27 possa calare o comunque possa avere la possibilità che anche da questo contesto provinciale possano arrivare istanze tali da poter valorizzare e migliorare gli standard qualitativi del contesto provinciale. Le altre province hanno una partecipazione omogenea tra di loro? Per quanto riguarda il sistema del turismo c'è una provincia che naturalmente ha una valenza un po' più schiccata che la provincia di Lecce e la seconda è la provincia di Brindisi.